Chiusi i lavori della Commissione d'inchiesta sull'emergenza idrica, il Presidente Sara Marcozzi ha presentato la sua relazione finale approvata dall'Aula. Conclusioni nel documento dettagliato che segnano una strada per il futuro del nuovo sistema idrico. I risultati per la Marcozzi sono sia di natura pratica che politica. Il futuro però è un unico gestore. Dunque, i risultati sono di due ordini. L'ordine politico, il risultato politico più importante è di aver portato il tema dell'acqua al centro del dibattito regionale. Noi abbiamo depositato la richiesta un anno fa, quasi. Oggi finalmente ne parlano tutti quanti. Il risultato è che Regione Abruzza oggi è già giunta alle soluzioni e a tracciare quello che sarà il percorso del futuro. Oggi anche a livello nazionale si inizia a parlare del futuro. Noi questo lavoro lo abbiamo già fatto. Altro risultato politico e pratico è di essere riusciti a convincere i sei gestori a collaborare tra di loro e a collaborare con Ersi. Quello che è uscito dai lavori di commissione è che bisogna investire, ovviamente, nelle infrastrutture esistenti, nel potenziamento delle infrastrutture esistenti, ma soprattutto in nuove infrastrutture che permettano di interconnettere i sei gestori tra di loro. Dunque il futuro è certamente una gestione unica perché questo permette poi anche di rivedere la governance, efficientare la governance, efficientare i servizi, abbassare i costi, fare economie di scala e quindi poi riversare questo abbassamento di costi anche nei confronti delle tariffe e degli utenti. Abbassare i costi vuol dire anche abbassare il costo dell'energia, fare economie di scala vuol dire pagare meno energia elettrica e quindi far pagare meno l'acqua ai cittadini.